Mentre dici questa cosa, bisogna mettere gli insetti, perché funziona. A vedere se non c'è. Mamma mia, ce la faccio ciò. Sono bene. C'è la faccio ciò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è anche un altro ferito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.